Grazie, grazie dell'invito. È vero che questo progetto che si chiama Alfa è l'ultimo arrivato, ma di fatto, riprendendo anche alcune suggestioni di stamattina, nasce di fatto da un percorso iniziato agli inizi, diciamo così, degli anni 2000, con due protocolli che la prefettura di Torino ha fatto con già allora niente antitratta, che era il protocollo Alnima e il protocollo turnaround, cioè dei progetti comunque rivolti alle vittime di tratta che erano sul nostro territorio, quel periodo lì soprattutto al centro di permanenza temporanea, ora poi ha cambiato tutti i vari nomi, rispetto a rifare un accompagnamento nel paese d'origine in espulsione, in un modo il più possibile tutelato. Ripensavo stamattina, adesso che sentivo, di come comunque siamo riusciti tutti quanti a fare tesoro di questa esperienza che il nostro territorio torinese e regionale ha vissuto in questi anni. Noi abbiamo sempre avuto la caratteristica, purtroppo, per fortuna, non lo so, di avere un alto numero di richiedenti asilo nigeriane nell'universo dei richiedenti, è stata la costante. Altri nazionalità sono cambiate nel corso di questi anni, almeno per quello che riguarda la mia esperienza in campo di asilo e di tratta di questi anni. Abbiamo fatto tesoro di queste esperienze, abbiamo costruito reti, ecco, quello che io trovo non solo dell'ultimo progetto, ma almeno di questi ultimi cinque anni. Noi a febbraio 2014 abbiamo iniziato l'accoglienza nei CAS o nei centri di accoglienza straordinaria che è più carino e fin da subito noi abbiamo avuto un aumento dei flussi misti che però, ripeto, almeno per noi, non è una novità di questi ultimi anni. Noi abbiamo sempre avuto, soprattutto, nigeriane richiedenti asilo e ovviamente, come i dati nazionali facevano vedere, anche per noi la presenza di donne nei centri di accoglienza di origine nigeriana è man mano aumentata. Siamo nel periodo 2014, maggio 2018, noi abbiamo avuto in accoglienza 1.197 donne, che non sono poche. E fin dal loro arrivo, noi abbiamo un centro di transito e di smistamento che è Croce Rossa a settimo, quando arrivavano delle donne chiedevamo a tutti, a partire dal personale di Croce Rossa, di una particolare attenzione, che uscissero il meno possibile, che guardassero chi è che magari le veniva a prendere. Ci sono stati dei periodi in cui, dopo due o tre giorni, le nostre donne sparivano. E anche il tentativo che è stato fatto di trovare, supportare, dei centri d'accoglienza specifici per donne che chiedendo, anche se non era previsto, che si affidassero, che collaborassero con gli enti antitratta, perché anche qua la rete antitratta del Piemonte dura da tempo, non è Piemonte in rete contro la tratta, ce l'abbiamo da un po' di anni. Poi mi sento tanto memoria storica, ogni tanto mi sento un po' antica, ma va bene lo stesso. Allora, tutto questo pezzo di cose ha fatto sì che con un FAMI Prefettura approvato dal Ministero dell'Interno, uno dei pezzi previsti dal FAMI Prefettura fosse anche la formazione degli operatori dei CAS sulla questione tratta, fatta con gli operatori della tratta nostri locali, grazie a Ires, perché se Ires non supporta tutto il piano amministrativo, progettuale, rendicontativo, non sapremmo come fare, noi siamo un po' pochi. e nello stesso tempo era uscito un progetto FAMI di OIM, Aditus. Abbiamo chiesto a OIM di darci la possibilità di farlo alla fine, perché così ce lo facevamo a livello locale. Vedevamo che cosa veniva fuori, che esigenze veniva fuori dai nostri territori. E l'OIM l'ha fatto giusto il 14 febbraio, festa di San Valentino. È un'occasione? Non lo so. Qui no, ma nel senso che a volte anche le coincidenze o le giornate servono. E abbiamo quindi iniziato un percorso anche con i centri di accoglienza, che ripeto non sono tenuti, essendo la nostra una conienza basica, non specialistica. Però abbiamo voluto dare delle opportunità agli operatori. Poi abbiamo degli operatori anche molto in gamba, perché comunque si sono anche costituiti e hanno creato una formazione dal basso per parlare tra di loro, confrontarsi, senza la presenza a volte molto ingombrante e pressante dell'istituzione, soprattutto della prefettura. Abbiamo consolidato quindi questa rete, ma abbiamo anche consolidato tutti quelli che sono i rapporti con i territori, con le forze dell'ordine, con la procura, con i carabinieri, soprattutto delle realtà locali dove sono inseriti i nostri centri d'accoglienza che ospitano donne. Perché una delle caratteristiche di Torino e del Piemonte è l'accoglienza diffusa. Se qualcuno non lo sa, noi abbiamo 126 comuni che accolgono in generale. Non sono pochi. Abbiamo più di 300 appartamenti che accolgono persone. Non le donne da sole, perché l'esperienza dell'accoglienza in appartamento, diciamo che non è stata proprio positivissima. Poi da tutte queste cose siamo arrivati a questo progetto europeo, che ha preso però anche spunto da una sorta di sperimentazione un po' folle, fatta con un'associazione del nostro territorio che è il CERMIG. Per cui diverse donne vanno a bussare al dormitorio femminile del CERMIG, che sono uscite dai percorsi di accoglienza, che sono scappate, che sono state portate via, a cui si è iniziata a vedere che erano comunque vittime di tratta. Per cui abbiamo fatto un accordo così molto informale e formale nello stesso tempo. Il CERMIG se le tiene un mese, un mese e mezzo. Proviamo a ridare a loro delle opportunità del vedere, l'abbiamo anche scritto sul famoso progetto, dare un periodo di tempo breve alle donne di stare in un luogo neutro, regolamentato ma non eccessivamente rigido, con la presenza degli operatori. Il CERMIG è uno degli enti, fa parte anche della rete dello Sprar e tutti si proimi. quindi la possibilità di uscire al mattino, andare a scuola, rientrare e favorendo un avvicinamento graduale e una costruzione di rapporti di fiducia, decidere poi che cosa fare e che proposta fare le ragazze. Inserirle nel percorso antitratta, inserirle in un centro di accoglienza straordinaria, resta nel giro dei dormitori per sintetizzare. Allora, siccome abbiamo visto che funzionava nel nostro piccolo, mettendo anche questo tassello insieme, si è deciso di presentare come prefettura insieme alla regione Piemonte e insieme a IRIS, sempre per il supporto di cui sopra e anche per un'ottima conoscenza delle procedure dei fami europei della lingua inglese, che io non ho, si è deciso di presentare... ci abbiamo impiegato un po' di tempo, perché prima lo volevamo presentare solo al Ministero. Poi è venuta fuori questa opportunità dei fami emergenza e quindi l'abbiamo anche presentata all'Europa e pare che ce l'abbiano approvato. Un progetto che ci consenta di ridurre i tempi di identificazione delle vittime, collocando al più presto le donne individuate alla frontiera, quali vittime potenziali, in strutture specializzate nel riconoscimento degli indicatori di tratta, in grado di fornire un'assistenza specializzata in condizioni di sicurezza. E pensiamo di farlo inserendo 400 persone. Potenziare, che sono poi i due aspetti più grossi. Potenziare il raccordo tra il sistema di protezione e accoglienza, quindi i centri di accoglienza straordinaria, l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, nonché la rete dell'antitratta. E raggiungendo, se possibile, anche proprio questo discorso diciamo dell'articolo 18, quindi la possibilità comunque anche di fare contrasto al fenomeno, che tra l'altro è già stato fatto in questi anni. C'è un rapporto costante e stupefacente con la procura, soprattutto agli inizi. Rosanna Paradiso è andata anche nelle strutture per dare delle indicazioni. Cioè abbiamo provato davvero, con grande fatica, però anche con grande soddisfazione, a mettere in circolo la conoscenza, l'esperienza, le relazioni e poi approfondire e migliorare la conoscenza delle relazioni tra traffico di esseri umani, immigrazione clandestina, sfruttamento e gli effetti che producono sul sistema di accoglienza piemontese, attraverso la costruzione di un sistema dinamico di raccolta e analisi dei dati. Questi aspetti, soprattutto l'approfondire e migliorare la conoscenza delle relazioni tra traffico di esseri umani, immigrazione clandestina e la raccolta e analisi dati. Perché ognuno di noi soggetti ha dei pezzetti che ce li mettiamo in relazione, ce lo diciamo, la cabina di regia sulla tratta, l'osservatorio sull'immigrazione della prefettura. Però abbiamo anche bisogno di sistematizzare i dati anche con un rigore scientifico per dire anche che quello che abbiamo fatto in questi anni ha avuto un senso e ha portato a questo risultato che, quando poi ci penso soprattutto con Martina seriamente, dicendo, va bene, in che cosa ci andiamo a imbarcare per il prossimo anno e mezzo? Perché comunque ragionare su 400 ragazze, in parte anche nuclei familiari, perché in tutta questa vicenda noi abbiamo anche quelle che io definisco i nuclei o le coppie farlocche, sempre nigeriane, ma che magari qualcuno ne sa qualcosa qua dentro, proprio coppie non sono. E quindi non vorremmo far cadere dalla padella alla braccia le nostre ragazze, togliendole da una situazione ma mettendole, perché l'abbiamo già avuto anche esperienze, e quindi sistematizzare le esperienze soprattutto di questi ultimi cinque anni, per poi riandare a riproporre anche tutte le ipotesi che ci si è fatti, in stretto ovviamente anche qui contatto e rapporto con la Commissione Asilo, col quale ci si interfaccia continuamente. Grazie e inizieremo a breve questa nuova avventura insieme.